Eccoci di nuovo qua. L'ultima volta abbiamo scoperto che esiste un nuovo tipo di forza, in particolare una forza a distanza, che è la forza elettrica. In particolare parliamo di forza elettrostatica, perché per adesso considereremo solo situazioni in cui le sorgenti di queste forze sono ferme. In sostanza, se supponiamo che questo sia un corpo che possiede una carica elettrica diversa da zero, abbiamo visto che se noi posizioniamo nelle vicinanze una seconda carica elettrica, questa sentirà una forza verso la prima carica oppure nel verso opposto, in base ai segni delle due cariche. Quindi se le due cariche hanno lo stesso segno, si respingeranno fra loro, mentre se hanno segno opposto si attrarranno. Negli ultimi minuti della scorsa puntata abbiamo anche introdotto velocemente il concetto di campo elettrico, dicendo che io posso immaginarmi la situazione in cui c'è una prima carica elettrica che successivamente eserciterà una forza su una seconda carica, come se in realtà la prima carica stesse modificando le proprietà dello spazio che la circonda. In questa nuova interpretazione l'interazione elettrica non è più dovuta solamente alla carica ma a questa proprietà che viene acquisita dallo spazio che circonda la carica e questa proprietà viene detta appunto campo elettrico. Quindi io metto la prima carica che supponiamo che sia positiva o che si genera un campo elettrico attorno a questa carica e se inserisco adesso in questa zona di spazio con questa nuova proprietà detta campo elettrico una seconda carica, ad esempio negativa, questa carica andrà verso la carica positiva. In questo caso se metto la carica qui sopra andrà ad esempio verso il basso, se la metto qui andrà verso destra, se la metto sotto andrà verso l'alto. Quindi io posso assegnare a ogni punto che circonda la mia carica iniziale un vettore, un vettore che rappresenterà in questo caso una forza elettrica che agisce sulla seconda carica che io inserisco in quella zona di spazio. Pertanto la mia carica sorgente genererà nello spazio che la circonda un cosiddetto campo vettoriale, cioè una situazione spaziale per la quale a ogni punto dello spazio circostante posso assegnare un vettore forza, che rappresenterà proprio la forza che agirà poi sulla mia carica numero 2 che inserirò in quella zona di spazio. Attenzione però perché il campo elettrico in realtà non è ancora questo campo di forze, perché noi adesso abbiamo descritto un campo che dipende fortemente dalla carica che poi io inserisco al suo interno e questo non può succedere. Io voglio un campo che dipenda solo dalla mia carica iniziale. Pertanto come faccio a descrivere un campo vettoriale che dipenda solo dalla carica che inserisco all'inizio? Quello che devo fare è dimenticarmi delle cariche che inserirò successivamente, cioè io posso usare tali cariche per andare a vedere come è fatto il campo, ma dopo devo dimenticarmi del valore specifico di quella carica che ho inserito. E come si fa questa cosa? In realtà basta dividere quella forza che sente la carica di prova, che viene posta nel campo, per il valore della carica stessa. Infatti abbiamo visto che la forza fra due cariche elettriche dipenderà dal prodotto carica 1 per carica 2. Adesso però io divido tale forza per la carica 2. Quindi ho qualcosa che dipende dal prodotto carica 1 per carica 2, lo divido per la carica 2 e rimarrà solo qualcosa che dipende dalla carica 1. Se si fa il calcolo quindi si ottiene una quantità che non è più una forza, ma è una forza per unità di carica. Ricapitolando, quindi io inserisco la prima carica, vado a vedere che forza agisce sulla seconda carica e divido tale forza per il valore della seconda carica. In questo modo rimane una proprietà nello spazio che dipende solo dal valore della prima carica, ma che posso anche adesso vedere come un insieme di vettori che hanno anche una direzione e un verso. Naturalmente la carica è una grandezza scalare, quindi se io divido un campo di forze per una carica o per tante cariche, quello che ottengo sono comunque dei vettori che non saranno più dei vettori forza, ma saranno dei vettori dati da forze diviso cariche e la quantità forza diviso carica è proprio il campo elettrico. Quindi grazie alle mie cariche di prova io posso costruire tutto il mio campo elettrico che circonda la prima carica, la carica sorgente, e poi posso dimenticarmi di quali cariche ho utilizzato, perché rimangono solo i vettori campo elettrico. E una volta che ho tutto il campo elettrico che circonda la prima carica, quindi una volta che ho tutte queste frecce che mi dicono in quale direzione e in quale verso sentiranno una forza le cariche di prova che poi inserirò in quel campo, posso calcolare in modo abbastanza pratico le forze che sentiranno le cariche di prova moltiplicando il campo per la carica stessa. Se il campo si ottiene facendo forza diviso carica è evidente che poi successivamente una volta che ho il campo posso trovare la forza facendo campo per carica. Naturalmente la forza più basilare che ho per quanto riguarda l'interazione elettrica è quella determinata dalla legge di Coulomb, quindi se io le mie due cariche le utilizzo per calcolare la forza fra le stesse usando la legge di Coulomb e poi divido quella forza per il valore della prima carica, ottengo un'espressione per il campo elettrico generato da una carica, in questo caso puntiforme, perché la legge di Coulomb valeva per due cariche puntiformi. Più in generale però, utilizzando l'espressione del campo generato da una carica puntiforme, posso calcolare tutti i campi generati da diverse distribuzioni di carica. Ad esempio posso immaginarmi che tutte le cariche siano distribuite su una superficie sferica oppure cilindrica e così via, e usando sempre il calcolo integrale, che ormai avrete capito è uno strumento essenziale per calcolare le forze che vengono esercitate dagli oggetti e sugli oggetti, usando tale calcolo posso determinare i campi elettrici, o meglio elettrostatici, generati da forme anche molto complicate che siano cariche. Quindi dato qualsiasi oggetto carico siamo in grado adesso di calcolare il campo elettrico che tale oggetto genera nello spazio. Tale strumento matematico, tale modello matematico di campo ci permette poi di calcolare le forze che agiranno in ogni punto dello spazio su cariche di prova. Come vi ho già un po' anticipato anche l'ultima volta, questa cosa si può fare anche con il campo gravitazionale. In particolare io vi ho già parlato del campo gravitazionale, anche se non l'ho chiamato così, perché io vi ho già nominato la cosiddetta accelerazione di gravità g minuscola. Ebbene, l'accelerazione di gravità, fisicamente parlando, costituisce a tutti gli effetti il campo gravitazionale, perché è una quantità che si viene moltiplicata, in questo caso per una carica gravitazionale, quindi per una massa, ci fornisce proprio la forza di gravità. Quindi anche con la legge di gravitazione universale, in cui io descrivo la forza gravitazionale fra due masse, se io divido tale equazione per la massa di prova, ottengo proprio l'espressione del campo gravitazionale generato dalla massa sorgente. E le cose sono completamente analoghe, a parte i versi, perché sappiamo che nel caso elettrico, se le cariche hanno lo stesso segno, allora i due oggetti si respingeranno, mentre nel caso gravitazionale, due masse hanno sempre lo stesso segno e si attraggono. Ora la grande domanda è, ma i campi esistono davvero, cioè il campo gravitazionale e il campo elettrico, sono qualcosa di reale o solo un modello matematico? Ebbene, a mio parere la domanda non ha molto senso, cioè tutto quello di cui stiamo parlando in realtà è modello matematico o più in generale è un modello della realtà, come abbiamo detto fin dalla primissima puntata. Dire che il campo è un modello matematico è sicuramente vero, ma non è più vero rispetto al dire ad esempio che anche una forza è un modello matematico o anche l'idea di punto materiale è un modello matematico. Lo spazio stesso, per come lo intendiamo matematicamente, è solo un modello. Il concetto di campo, e in particolare di campo elettrico, è semplicemente un nuovo modello che ci permette di descrivere in modo consapevole e accurato i fenomeni riguardanti cariche elettriche e forze elettriche. Se io inserisco una carica elettrica nello spazio, so che attorno ad essa si genera un campo elettrico. Questo significa che so che matematicamente io posso descrivere il moto di eventuali altre cariche o le interazioni che altre cariche avranno con questa prima carica attraverso il concetto di campo. Non posso però dire se quel campo esista davvero da un punto di vista profondamente filosofico, perché questo non lo può dire nessuno. So però che posso descrivere gli effetti fisici che la prima carica ha sulle altre cariche attraverso il concetto di campo, quindi posso tranquillamente dire che il campo stesso ha degli effetti fisici reali sulle cariche. E questo varrà un po' con tutti i campi che vedremo d'ora in poi, perché vedremo che ci saranno anche altri campi. A parte il campo magnetico, che verrà visto fra poco, avremo anche poi i campi della cosiddetta teoria quantistica dei campi, che sono molto più difficili da inquadrare, ma sotto sotto si tratta comunque sempre di modelli della realtà, esattamente come il campo elettrico o il campo gravitazionale, ma anche come il concetto di forza, di energia, di quantità di moto, di spazio e di tempo, che a livello matematico sono comunque dei modelli, anche se noi crediamo di essere convinti di sapere esattamente cosa siano ad esempio lo spazio e il tempo. Tornando al campo elettrico, adesso possiamo dire finalmente cos'è un campo elettrostatico. Ebbene, si tratta di un campo elettrico che non varia sostanzialmente con lo scorrere del tempo, quindi in cui tutti i vettori rimangono loro stessi nel tempo e non si modificano. Si tratta di una situazione quindi che è in grado di descrivere tutti quei fenomeni in cui bene o male le sorgenti del campo elettrico che ci interessano rimangono ferme e a muoversi sono solo poi le cariche di prova, che poi costituiranno ad esempio le correnti elettriche. Ora vorrei parlare del concetto di campo conservativo, a cui noi potremo poi associare il concetto di potenziale, che nel caso elettrico è estremamente importante. Prima di tutto però cerchiamo di dire che cosa sia una forza conservativa, perché in realtà abbiamo già accennato questo termine quando abbiamo parlato di lavoro. Vi ricordo che detto in modo molto semplice, il lavoro può essere visto come forza per spostamento a livello meno semplice è un integrale di una forza per uno spostamento infinitesimo lungo un certo percorso. Comunque l'idea è che noi spingiamo un oggetto lungo un percorso a nostra scelta fra due punti A e B e alla fine calcoliamo l'energia che abbiamo speso per svolgere questo lavoro. E adesso ci sono due possibilità. O l'energia totale che abbiamo speso dipende dal percorso che abbiamo seguito, quindi in base al percorso specifico fra A e B l'energia che abbiamo speso può cambiare e in questo primo caso diciamo che la forza il cui lavoro dipende dal percorso è una forza non conservativa, oppure in alternativa può essere che l'energia non dipenda dal percorso, quindi dipenda solo dal punto iniziale e dal punto finale, e in particolare dalla loro distanza lungo una certa direzione. In questo secondo caso diciamo che la forza il cui lavoro non dipende dal percorso è una forza conservativa. Un esempio molto celebre di forza non conservativa è la forza di attrito. Infatti questa agisce sempre contro i nostri tentativi di svolgere un movimento. Quindi se io devo spingere un carello fra un punto A e un punto B e vado dritto da A fino a B, la forza di attrito avrà svolto un certo lavoro. Ma se io per andare da A a B faccio prima un enorme giro lungo e poi arrivo a B, sarò più stanco e questo significa in sostanza che la forza di attrito ha svolto contro di me un lavoro più grande. Ci sono però altri casi in cui invece il lavoro della forza non dipende dal percorso seguito e un esempio è la forza di gravità. Questo significa ad esempio che se un oggetto cade da una certa altezza, ad esempio riferendoci al pavimento, l'oggetto parte da un'altezza di 100 metri e cade e arriva a un'altezza di 80 metri, allora l'energia che avrà, l'energia in eccesso che avrà rispetto all'inizio, non dipenderà dal percorso specifico seguito, ma dipenderà solo da quei 20 metri di dislivello. Cioè che quell'oggetto sia caduto verticalmente verso il basso, oppure sia scivolato lungo una discesa, oppure che sia rimbalzato cadendo da delle scale, non importa. Il lavoro del campo gravitazionale sull'oggetto sarà sempre lo stesso, se quei 20 metri rimangono tali. Ora ho mescolato volutamente il concetto di forza di attrito e il concetto di campo gravitazionale perché in realtà noi parliamo sia di forze conservative sia di campi conservativi. In particolare il campo gravitazionale è un campo conservativo proprio perché la forza di gravità che agisce su qualsiasi oggetto svolge un lavoro che non dipende dal percorso seguito dall'oggetto. Quindi la forza di gravità è una forza conservativa e per estensione diciamo che il campo gravitazionale è un campo conservativo. Quindi è un campo fatto in modo che il lavoro che esso svolge attraverso le forze sugli oggetti non dipenda dal percorso seguito. Si scopre a questo punto che anche il campo elettrico è un campo conservativo. Quindi ad esempio se ho la mia carica sorgente positiva e qui metto una carica di prova sempre positiva, so che il campo generato dalla prima carica farà in modo che la seconda si muova così verso destra. A questo punto quindi avrò una forza elettrica esercitata dal campo sulla carica di prova e tale forza genera un lavoro. Facendo forza per spostamento mi accorgo che ottengo un'energia finale della carica che non dipende dal particolare percorso seguito lungo questo spostamento. Quindi ad esempio se la mia carica aveva già una velocità verso l'alto, lo spostamento sarà fatto ad esempio in questo modo, una sorta di arco di parabola, oppure può essere che l'oggetto arrivasse dall'alto e quindi farà una cosa di questo tipo. Insomma in ogni caso se l'oggetto si muove fra gli stessi punti A e B spinto dal campo elettrico, l'energia totale finale acquistata dall'oggetto, quindi il lavoro totale del campo elettrico sull'oggetto, non dipenderà dal particolare percorso seguito. Il fatto che il lavoro non dipende dal percorso in realtà è molto importante perché se abbiamo una quantità che dipende solo da un punto A e da un punto B significa che noi possiamo assegnare una certa quantità direttamente a questi due punti. In particolare noi abbiamo visto il teorema delle forze vive che ci ha detto che il lavoro totale svolto su un oggetto è uguale alla variazione della sua energia cinetica. Quindi svolgendo un lavoro su un oggetto io praticamente gli do energia. A questo punto io considero l'energia che una carica acquista muovendosi da un punto A fino a un punto B, energia che deve essere dovuta solo al lavoro del campo elettrico. Io prendo questa energia che la carica ha acquistato muovendosi da A fino a B, ricordiamoci che può essere anche un'energia negativa se la carica ad esempio ha perso energia cinetica, prendo l'energia acquisita dalla carica e divido questa energia per il valore della carica stessa. Questo equivale a dire che io prendo il lavoro che è stato svolto sulla carica durante quel percorso e lo divido per la carica. A questo punto ottengo una quantità che è indipendente dalla carica di prova e dal qualsiasi percorso che abbia seguito per andare da A fino a B. Ottengo quindi una quantità che dipende solo da A e da B e chiamo questa quantità differenza di potenziale elettrico fra A e B. Quindi la differenza di potenziale elettrico fra due punti è praticamente il lavoro per unità di carica. Più precisamente tale differenza di potenziale è data dal lavoro che il campo elettrico ha svolto sulla carica per portarla da A fino a B, tutto questo diviso il valore della carica stessa. Quindi mentre il campo è dato da forza per unità di carica, il potenziale o meglio la differenza di potenziale è data da lavoro per unità di carica, quindi da energia per unità di carica. E come mai il concetto di potenziale è importante? Sostanzialmente perché è una grandezza scalare, quindi è molto più facile da utilizzare. Infatti se faccio forza diviso carica ottengo ancora un vettore, quindi il campo elettrico è ancora un vettore. Mentre se faccio energia diviso carica ottengo un numero, uno scalare. Quindi io posso assegnare a tutti i miei punti dello spazio un certo numero. In questo caso in modo che la differenza di quel numero fra A e B, A e B equivalga proprio al lavoro per unità di carica che ci serve per portare l'oggetto da A fino a B. Pertanto è importante sottolineare che il concetto di potenziale si definisce attraverso la differenza di potenziale, cioè io so che fra quei due punti A e B c'è una differenza di potenziale che equivale a una certa quantità. A questo punto posso decidere io se A sia uguale a un certo valore e di conseguenza B sia uguale a un altro valore. In particolare la differenza di potenziale si misura in volt. Un volt, come vi ho detto, è energia per unità di carica, quindi sarebbe joule diviso coulomb. Quindi io innanzitutto scopro ad esempio che per spostare una carica da A fino a B ho bisogno di una quantità di energia pari a 10 joule. A questo punto so ad esempio che la mia carica è uguale a 2 coulomb, perciò faccio 10 joule diviso 2 coulomb e ottengo che la differenza di potenziale fra A e B è uguale a 5 volt. A questo punto posso scegliere io che valori assegnare ad A e a B. Ad esempio A potrebbe trovarsi a 25 volt e B potrebbe trovarsi a 20 volt. Oppure A potrebbe trovarsi a 1.500 volt e B a 1.000 volt. L'importante è che la differenza sia sempre 5 volt. Vedremo poi, parlando di correnti elettriche, che le convenzioni sono fra le più svariate. Di solito si prende comunque un valore di riferimento uguale a 0 volt e poi si calcolano e si definiscono tutti gli altri punti del nostro sistema in base alla differenza di potenziale rispetto a quei 0 volt. Quindi è facile poi dire che ad esempio un punto ha un valore di 8 volt di potenziale, perché la sua differenza di potenziale rispetto allo 0 è 8 volt. Capite che stiamo introducendo dei concetti che ci permettono di parlare più agevolmente delle cose. Dire che fra due punti c'è una differenza di potenziale di 5 volt è molto più facile che definire come sia fatto il campo elettrico in ogni punto lì in mezzo, perché quello che a me interessa sostanzialmente è conoscere l'energia finale che avrà la carica una volta che avrà attraversato quei 5 volt. E tale valore dipende solo dai 5 volt e dal valore della carica. Io sapendo che lì ci sono 5 volt so che una carica di 2 coulomb attraversando quella differenza di potenziale acquisirà 10 joules, cioè 5 per 2. Mentre una carica di 10 coulomb acquisirà un valore di 50 joules. Magari mi perdo i dettagli sul moto, quindi sulle accelerazioni della carica lì in mezzo, ma ottengo quello che mi interessa, cioè il valore di energia. Quindi posso fare tutti i bilanci energetici del caso. E ancora meglio, non devo preoccuparmi sempre in ogni problema di come sia fatta la sorgente di campo, di come sia fatto il campo, no. A me basta sapere che fra quei due punti c'è una certa differenza di potenziale elettrico. E ho fatto tutto. Ovviamente poi ci saranno altri problemi in cui invece devo sapere come sono fatti i campi e lì le cose saranno più complicate. In realtà tutto questo poteva essere fatto anche con il campo gravitazionale e lo si fa, però nel caso elettrico diventa estremamente importante perché poi ci saranno tutte le applicazioni ad esempio per quanto riguarda i circuiti elettrici. Ora concludo semplicemente dicendo che noi possiamo sostituire lo studio dei campi elettrici, in tanti casi con lo studio dei potenziali elettrici. Quindi io posso prendere la mia solita sorgente di campo elettrico e in un certo senso lasciare stare il campo nello specifico e definire come è fatto il potenziale elettrico generato dalla mia penna in tutti i punti dello spazio. Quindi posso associare a ogni punto che circonda la mia penna non un vettore ma semplicemente un valore numerico che mi indica il potenziale. E attraverso le varie differenze di potenziale fra due punti posso determinare come si muoveranno le cariche fra questi due punti, perché ricordiamoci che se i punti sono lontani io ho solo un bilancio energetico, ma più io avvicino i punti più posso esplorare i dettagli di come varia il moto delle cariche. Quindi alla fin fine io sono in grado comunque di ricostruirmi tutto il campo elettrico, o meglio elettrostatico, a partire dalle informazioni solo sul potenziale. Quindi posso partire da un cosiddetto campo scalare, quindi da un'assegnazione a tutti i punti dello spazio di un semplice valore numerico e ottenere tutto il campo elettrico. Quindi posso ricostruirmi come è fatto tutto il campo elettrico a partire dalle informazioni sul potenziale in ogni punto. Se avete domande o osservazioni scrivete pure un commento, mettete anche mi piace se apprezzate questo mio modo di divulgare e comunicare la fisica e noi ci vediamo domani con un nuovo video sull'elettromagnetismo. Ciao ciao!